107 seggi attivi e centinaia di volontari al lavoro. È così che il territorio aretino si prepara per le primarie del Partito Democratico, dalle quali uscirà il nome del prossimo segretario nazionale. L'appuntamento è in calendario domenica 8 dicembre. A partire dalle 8 del mattino, iscritti ed elettori del PD potranno recarsi alle urne per esprimere la propria preferenza su chi tra Pippo Civati, Gianni Cuperlo e Matteo Renzi guiderà il partito. Stando alle regole generali elaborate, hanno diritto di voto le cittadini e i cittadini che hanno compiuto il sedicesimo anno di età, i ragazzi tra i 16 e i 18 anni. Gli studenti e i lavoratori fuori sede debbono obbligatoriamente registrarsi online per poter esercitare il diritto di voto. Per tutti l'iscrizione online era valida fino alle ore 12 del 6 dicembre 2013. Per accedere alle urne è necessario recarsi al seggio con un documento di identità, la tessera elettorale e 2 euro di contributo per le spese organizzative. Chi è già iscritto al PD non ha l'obbligo di versare 2 euro di contributo. Ad Arezzo Città sono previsti 16 seggi, tra questi all'interno del Circo L'Aurora è previsto il seggio speciale per i fuori sede, mentre in via Montecervino ci sarà quello per i migranti. Il resto dei seggi sarà dislocato in tutti i comuni della provincia.